Anche a Livorni Civitavecchia risuono le sirene della solidarietà per onorare il contributo dato dai merittimi nella vita economica e sociale del Paese, come ricordato dall'ammiraglio Giovanni Pettorino. Il 90% delle merci viene importato via mare e senza questa importante attività, specialmente in periodi come questo, un periodo di emergenza, non avremmo accesso neanche ai beni di prima necessità. A tutti coloro che trascorrono la propria vita lontano dagli affetti in questi giorni così difficili va il nostro pensiero, va la nostra vicinanza. A loro voglio ricordare che gli uomini e le donne delle capitanerie di Porto sono al loro fianco e lo sono ancora di più in questi giorni. Un poeta del secolo scorso così declamava Sono marinaio, è mio questo primo maggio. Con coraggio e ardore superiamo le difficoltà. Sono questi versi ancora più attuali oggi. Alle 12 in punto, anche in Maremma, le sirene dei mezzi navali della Guardia Costiera e dell'Unità Mercantili sono state attivate all'unisono per omaggiare tutti gli operatori marittimi. Buon primo maggio a tutti voi.